L'obiettivo è sempre quello di portare a casa i due punti, poi in casa, contro Vieti, comunque abbiamo vinto l'andata, che sarà un momento positivo, però sarà una bella battaglia e vogliamo a tutti i posti vincere, soprattutto dopo Legnano, e stiamo lavorando per questo. Ma sicuramente dopo Legnano comunque sono tornati un po' più stanchi del previsto, un po' più acceccati, però comunque abbiamo lavorato bene, abbiamo sistemato alcune cose dal punto di vista fisico, ma anche tecnico, e nonostante qualche acciacco di troppo, stiamo lavorando bene in vista della partita, sicuramente. Ha sempre influito molto, dal punto di vista positivamente, e sono sicuro che anche sabato non mancherà, e speriamo di soddisfarli con una bella vittoria.